salve a tutti e ben ritrovati in nuove sfavillante episodio di left for dead 2 sempre qui con me insieme ci sono lara e len le sfavillanti ciao ciao sono rimasta le cime di rava e che abbiamo fame se non si nota guardi no allora anche se ho presentato io la partita la l'ha fatta lara atto quindi dove andremo stavolta allora sotto andiamo al centro di morte si chiama l'hotel questo mi pare che l'ho provato ecco e quindi sediamo e vediamo di morte dove morì esatto io e len abbiamo cambiato i personaggi io sono nick quello che l'altra volta si fregava i meriti e dev e coach che io l'altra volta chiamato chad io sono ellis sempre quella dell'altra volta esatto quindi detto questo da mose giusto yes come direi sta scegliendo in ordine le mappe giusto e adesso sto ho scelto quella dopo quella della diciamo l'ultima che abbiamo fatto no mi sembra perché sennò poi dopo ripetiamo sempre stessi che in realtà questi bisognerebbe farlo in sequenza ecco perché non l'ho fatto in sequenza non lo so io non sapevo neanche che si potessero fare in sequenza la prima comincia proprio dagli appartamenti cioè da qui esatto non è bellissima questa ecco quindi adesso ah già questo non si può giocare con il pad giusto eh no questo è mouse e tastiero guardate come come l'altra volta mi faranno fuori i miei compagni col fuoco amico perché anche a me non si può prendere come no io l'ho presa eccola e però ti butta la pistola o no ah sì però c'è l'accetto e tanta roba ma la due pistole damose andiamo con questa gli accetti gli accetto tutti che ci sono Aiuto Oh, dove si? Mi sono andato in una stanza Quattro Oh, FDB No E poi Nicca, adesso sei tu, Len Chi è che sta sbattendo così? Reloaded No, è coscerlo Ups No Chi è questo? Perché c'ho la tuffa? Voglio sparare i tuoi amici Te lo dice anche Eh, lo so Eccola Che c'è qua? Oh, la sbomitazza Dove? Ha ucciso uno spitter la Rappadawan No Ma dove dobbiamo andare? Di qua? Dritto, dritto, il coroio Ma non è Ruscell che ha ucciso Che fastidio Ruscello? E' stata lei? Ruscello Ma morti, Ruscello, dai Manca poco Casco di sotto Adesso si prende i meriti questa Questa strusca Attenzione, attenzione Di qua dobbiamo andare Oh Oh mi spariamo No, sono stata molto attenta Lei con due pistole, Dev Anche Lara Ah, è vero Mortacci, stracci tua Sperà morire ammazzato Non per ruotassino Come stai? Allora, dobbiamo andare dall'altra parte, ragazzi Dobbiamo superare il fuoco Il fuoco Il charger? Che fine ha fatto? Eh, l'ha ammazzato Rochelle, credo Ti ha protetto Rochelle C'è qua La cartigenica Adrenalina Uh, Len mi ha protetto Ti ha visto Non mi sono manco accorto Vamose Mortacci, mi hai fatto prendere un coccolone, Len Sei arrabbiata, Coach Ma sono io Ah, Dev Scusa Reloaded Noo No, no, no... La bomba l'ho lanciata io Ah, vaffanbrodo No, no... o mamma che casino quando ne curava sì ma io sono veramente messo malissimo grazie rochelle mi stai antipatica però grazie e non mi sono mossa no preso a fuoco è grazie passati nel fuoco no ho detto che dritto un polidoio lara aspetta che lei sta dietro e perché non voglio passare nel fuoco passare il fuoco e io ho aperto la porta e si fa vabbè ma allora se c'è debb e ci rimango oltre allora fa del giro che arrivo e arrivo arrivo sto arrivando di qui di qui ok no no è ma sempre io però ma no rochelle cosa fai ma ma non si scuta vergogna ma proprio adesso dove si e poi mi sono girato da un'altra parte è stato bellissimo dove sta il tubo bomba eccolo che c'è sta qua signorina prendiamo ascensore ragazzi ascensore l'ultimo colpo me l'ha dovuto far sprecare voi non sentite mossa è giusto ma che succede mamma mia un nido un nido un nido oh 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 aprile soffochiamo ok adesso si ragione ma no moriamo no non si capisce di niente allora dobbiamo uscire ragazzi dobbiamo uscire da qualche parte non qui della della verso l'orda verso l'orda verso l'orda Len ci segue io non ci vedo più perché vedo tutto verde aiuto ma dove 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 no no non vedo più un ciufolo attenzione attenzione dove attenzione dove rochelle dove stanno io non so come ho fatto alla cieca alla cieca sono andata oh ecco 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 si 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 aspetta ti vedo ti vedo no 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 rochelle rochelle dov'è l'enno aiuto 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 no vai che devo ricaricare ma rochelle però potevi anche fare qualcosa eh ah ti stavo curando io eh no sono proprio morto ah proprio morto eh dev però dev le vallaccio eh vabbè io vado stai nel fuoco stai nel fuoco nel fuoco no vabbè ma no c'è un bomber oh mamma ragazzi arriva l'orda aiuta ma dove sei l'enno eh sono morta un fuoco cioè morta proprio il mio cadavere è stato è stato bruciato andiamo allora andiamo andiamo allora andiamo sbaglioniamo siamo noi adesso ecco ho portato un defibrillacoso appena arrivate qui dovrei 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 tornare in vita anch'io oh cosa è successo questo ahie Dev dove sei Lara aspetta che ho trovato un defibrillacoso no no vieni tanto adesso ma tanto adesso ah Len no ma non serve perché adesso tornavo in vita il fatto che sta nel fuoco ma una volta che entrate nella stanza dovrei tornare in vita no no eh sì è certo andiamo è morta di nuovo ma come e beh mi hai dato fuoco mi hai rianimato per lasciarmi nel fuoco ok dai grazie ragazzi prego non si abbandonano i compagni no il boomer non ci credo l'orda no entriamo 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 dintro ragazzi venite venite eh non riesca a muovermi cazzo ma come si corre qua no non si non si corre ci si corre no ci sei dev Sì, dai, vieni, vieni Ah, ce l'abbiamo fatto Oh, dai Ah, non si può adesso, dopo Ci curiamo dopo Siamo al sicuro Per il momento È stata una lotta molto confusa Eh, sì, qua, perché c'è il fuoco Devi stare attento a un sacco di cose Adesso dovremmo uscire, giusto? Eh, non me lo ricordo, veramente Ok Allora Allora, vediamo un po' se posso prendere un'altra arma Prendo questo Mi stanno curando, grazie Che è? Deve essere Rochelle Lo prendo io Ok, siamo pronti? No Mi sto curando Io non so se tenermi la pistola Ma io terrei la pistola, dai Andiamo? Siamo nel campeggio Ah, ok, però Dai che siamo fuori, almeno Ti provociamo No Non si passa questo Ah, sì Lei non infastidisca le witch, mi raccomando Si preoccupi, ci metto io No, sento questo fuoco Ancora C'era un ammazzo di zomboidi Io gli ho dato fuoco Scusate Reloading Reloaded Vedi come vanno a fuoco Eccolo Sono baggati Attenzione, attenzione, attenzione A quello che Chi si è messo qua? Reloaded Rochelle Ma che è successo a Rochelle? Va un jockey Ma no Ma pure io Ho cercato di salvarti No Rochelle No Come si fa? Sì, comunque urlate che c'è di una cosa veramente Come si è ressa? Me ne scordo sempre Coè, coè, coè Ah, coè Io sparavo alle Andiamo bene Andiamo Aspetta che mi Aspettate, vediamo che c'è qua Mi curo Devi Scusa, mi vuoi curare la ciccia? Oh Rochelle Rochelle Pronto? Che faccia schifata Rochelle Ci curi? Rochelle È terrorizzata proprio Uh, occhio che qua c'è la witch Mi raccomando Eh no Ah, aspetta Ma perché poverina Lei ha bisogno di essere curata Aspetta Vieni, vieni qua Vieni qua che ti curo io No Scusami Nooo, che dai Lo sapevo che lo prendevo io In del posto Eh Guarda l'or La porca luna Nooo, mi hanno preso Ok Parca buzza Ma io Lara lo ha visto a saltare Bellissimo Che cazzo è successo? Curati Sì, mi curata Copritemi però Ok Ah, te lo dobbiamo coprire E non c'ho una coperta Niente Damose Un aspirito osso Cosa ha preso lei? Di cosa si è impossessata? Ecco la witch appunto Uuuuh È stato bellissimo Hai visto? Rochelle si tiene Ma vaffan cuore Mi levi le mani di dosso Testo coglione Testo coglione Questo è un testo coglione Qui c'è un kit medico Se serve a qualcuno Già preso Serve a Rochelle Poverina Dove sta? Dove sta? Rochelle Ma che guardi in alto Eh, ma Non mi dà l'opzione Per curarla però Eh, devi Devi selezionare Devi selezionare Il coso E poi gliela dai Ah, giusto Giusto Arrivano Oh mamma No Incentivo io Da lontano Da lontano Da lontano Dove dobbiamo andare di qua Ok, andiamo se Andiamo se Ok, qua C'è qualche altro No, la lontano No, la lontano Tutti qua sono Mi sto curando Copritemi Ok Non c'è nessuno Andiamo sulle qua Uno sputo di vita Cerchiamo di usarlo bene Ho una molotov Non ho paura di usarlo Reloading Reloaded No Sono caduto di nuovo Ho sparato io Ce l'ho fatta Ah, ok Allora va bene I'm so sorry Chi è? Chi è che arriva? No Ma dai Giochi Però Sei Anche un infame Reloading I'm a reload E adesso Dovevo scavalcare Lenna Veni qua Cosa Cosa stai facendo? Mi piaceva il virus Inizio di qua Oh Io non sto sparando i compagni Guarda Stanno andando Tutti quanti Verso la bomboletta Che ho sparato io All'end E' vero Quindi serve per attirare E' stata una grande idea Io dovevo curare Pensavo che era la bomboletta Quella spray Ma lei si confonde con Resident Evil C'è un giochi 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 Io sono andata in faccia Reloading Reloaded Ma io questo non me lo prendo Sì infatti I'm about to die No Allora damo se Io vedrò così per tutto l'episodio Cioè? Bianche nero Che sto per morire Eh non c'ho niente Per curare Perché la bomboletta Era bombetta Ah no Pensavo fosse Allora Occhio Io ho capito bene Lei le ho lanciato la bile La bile Io lascio Sì E' però è stato È stato bello Perché li ha tirati tutti Sì E' visto Andavano tutti Verso Verso Quella andavano Uh arriva quello grosso Dove dove? Datemene un po' anche a me Oh Reloaded Reloaded Non so cos'è successo Venga che qui c'è un kit medico Venga Sento anche un jokey Eh però i giochi prendono sempre lei Ma Vabbè Ma dove va? È lui che mi trascina Rocher mi ha aiutato È un kit medico anche per me Eh non vi sono Ecco Ma vaffan cuore Mi stavo curando No Ma Questa aggressitudine Sto per morendo io Sto per morendo ve lo dico Ma chiudete le porte Ma infatti chiudete le porte Io Beh Vanno rotto la porta I mortaggi Oh Vediamo Eh c'è l'adrenalina lì Aspettate che mi vorrei curare Sì Mi sono impazzicata Sì perché Occhio che ce n'è uno dietro Ma dove stai tu Len? Eh io sono morta A come? Dove? Dove sei morta? Eh sono morta giù Ma che cazzo Ma dove sei? Giù dove? Eh qua da qualche parte Dove sei tu Lì Qua? Sì Ecco te Eh non ti posso rianimare Non c'ho Eh lo so No sono proprio morta morta Mi stavo curando Però magari se entrate nella stanzetta Poi mi rianimo Eh sì sicuramente sì Rochelle mi ha salvato Eh Come mi ha salvato Rochelle? Ma che davvero? Eh Hai capito Rochelle Grazie Rochelle Ma dai Thank you Vedi dove non arriviamo noi Arriva Rochelle Eh ma no male che Fa qualcosa Ok In compenso In compenso Mi è rimasta una pistola di merda No ho sprecato un cugno Oh no Gaghi dove? Che no vedo Da giù Eh lo sento però Eccolo eccolo Ecco Mo mi viene a me guarda Eh E' morto No Non è morto il crottino Eh lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Dov'è? Ok Vamo se Dai che siamo Siamo quasi Arrivati eh Thank you Lorda Dove? Qua Oli Ma che f*** Tutti alla cagnola Ti buttano Ti buttano Ooooo 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 Rochelle ma non ti accorgi che c'è uno dietro Ma chi m'ha curato a me? Ah ma ci ho curato io Ce mi ha fatto Le scape Reloading 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 C'è un kit medico qua Che c'è sta L'altro inolio Serve a qualcuno Lara forse serve a te il kit Oh no Ma E' sparito No vabbè Lo uso io Visto che mi serve Eh uso Cioè Vedi Tutti altruissimi Poi sta ceppa Vabbè Ma io sto bene Ma io ce l'ho Ce l'ho Stavo scherzando Ok Diamo ste Che cazzo Oh aiuto Ok Una volta che avanzo da su Andiamo Dai che sono volati arrivati E questi li ha uccisi Noi E' morto E' morto Quello Stiamo arrivati Tagli Roscello Noo Che è successo? Noo Ma voi siete già entrati No 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 ma non è Non è la porta quella No non è Ma che cazzo è Sto charger da me Ce la faccio ce la faccio Prima e poi ce la faccio Ma guarda te se si può Ma tu dimmi Roscello dove è Roscello? Roscello sei morto Roscello Ah qui adesso Prendete il kit medico Ho preso Ho preso Mirino laser Eh ci serviva Rochelle Però Tu da Anche vedo Ah allora prendo questo Allora Sì Dobbiamo andare qua ragazzi Io vorrei capire se Aspetta Ah questa è carina Però Forse è meglio Eh Mi viva come si usa Dov'è? Ah recupero e sopravvissuti Aspetta che arrivi Ma dove sta? Sta qua sotto Roscello sta qui Dove? E' qui Eh ma pensavo fosse morta Ma non si può passare qua No Ah no è di qua Ma sta stronza Ma sta qui Vabbè Intanto andiamo a fare Quello che dobbiamo fare C'è duplicata Eh I need you help Un attimino Che dobbiamo I need you help Noi prima Oh Ma dove si che finisci? Ma dove sai Dev Che con noi è l'orda Aiuta Ah state qua Ma che c'è fate lì? Ok ci faccio io qui Dobbiamo venire qui La coppola La coppola Eh appunto Che abbiamo una west Da fare Eh si ma io sono rimasto Bloccato qua Non mi muovo Perché? Perché no Ne c'ho l'orda Ti ho protetto Ti ho protetto Qua che cosa Cosa Fitt... Vaffanculo Sono a terra Aspetta Aspetta Che assogliamo Fammi prendere Questa Ah ma che cazzo vuoi? Andai Ma me un maro io No E' finita Oh mamma no 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 in qualche posto in alto no ma non arrivate qua infuocati che mi date fuoco anche si capisce il fucile non si è rivelato la più grande delle armi perché va ma ricaricato troppo spesso ok però è andato meglio di quanto grazie alla colla che serviva andiamo adesso dobbiamo rientro e riandare dal tizio dove dove è finita la colla no lasciami lasciami ma mollatemi buona bomba l'enna eh non mi mollano ho dovuto mollare la coca cola per terra ma c'hai tu la coca cola c'è la lara ma dove cacchio di radio sto andando dove stavo prima taci stracci vostro ma come facciamo ad arrivare dove stai tu oh ok devo fare il giro devo fare il giro io devo fare il giro magari si riesca a poterla come volo io e niente ma questo è difficile però mi sono difesa fino alla fine e levatevi dal cazzo non mi pigliola ok fatta grazie mille guarda che quella lì è ancora lì che chiede aiuto Rochelle non so che cosa sto facendo ho preso la adrenalina è di fatto io sono morta ma come sei morta? eh guarda quanti zombie che mi hanno attaccato non potevo fare altro oh meno male che sei arrivato Lara alla buona ora ah capito ma io stavo consegnando la quest dov'è lei? eh sono lì in mezzo sono lì in mezzo sì da quelle parti eh però non posso far niente eh no non c'è neanche Rochelle che può curarmi dobbiamo andare via da qua eh Dev arrivo però no no ha preso l'ascia che c'è qua? ah anche lei ha finito i colpi ma dov'è il led? eh sono morta dobbiamo andare qua forza forza eh c'è un comitato di benvenuto c'è sì c'è il comitato di accoglienza c'è il giochi eccolo no no si 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 è rimasta da sola Lara hey ragazzi ho bisogno di un'edizione posso farlo? sono bene sono bene sono bene ho bene oh tu vieni Alice ok dobbiamo scusare le regole c'è il suo 5 colpi sto prendo pure io ma che ho preso una moto? io ho preso il tubo bomba io controllo che c'è in questa tenda oh la k dove sta? eccolo oh guarda se lo piglio sto coglione oh guarda te mi sa che c'è poi un kit medical lì eh un attimo uh il charger no sono morta come? eh mi hanno divitalizzato e niente mamma mia si sono accaniti tutti quanti e che cos'è e niente basta basta va bene ci riproviamo la prossima volta e ripartiamo da qua oh ok chiudete la porta è chiusa ok beh insomma è stata più difficile eh perché qui c'è anche la quest da fare capito? quello dice andatevi a prendere la coca cola e io e poi dopo ci dice andate al supermercato capito? e lì praticamente c'è poi la porta e va bene allora ci rivediamo sempre qui al prossimo episodio e ciao a tutti vedete i nostri punti di vista e niente ciao 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 ciao